Da Schwarzman vediamo se riuscirà a recuperare qualcosa Lui ha il contatto, questo Che gran botta Eh sì, questa era una vettura del Team Yenzer Sefeticar naturalmente Il pilota però che era coinvolto Non so se era Pankiewicz No, forse non era Team Yenzer Vediamo, è una vettura sicuramente del Team RMB E quindi dovrebbe essere una delle due gemelle Pankiewicz Perché era in fondo tra l'altro allo schieramento Si ci confermano, grazie a Matteo Losa Che ci conferma, si tratta di Vicky Quindi di Vittoria Pankiewicz Che botta Brutta botta Manovra strana comunque Eh però si è spostato molto sulla destra E quindi di Vittoria